Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Blog Max! Oggi è un giorno specialissimo perché andiamo a vedere di nuovo i cagnolini e forse ci siamo decisi Però sono troppo troppo contenta e rettizzata Oh e che bella tavola scia a bicicletta che ho preparato, è bene Guardi che bella spaghettina, bella, bellissima, bicchieri shabby chic Troppo bella, yam yam La bruschettina con l'olio guida, yum yum Io adoro il pesce spada e anche il calamaro arrostito, yum yum Allora piccola, guarda quanto è bella, guarda, piccolina, guarda quanto è bella, guarda, guarda, troppo bella Guarda, tutti mai siete questi piccolini Ho già chiamato rinforzi, ho chiamato pure a Nance perché non so scegliere, ne voglio tutti G điềumente, Richa vuoi? E ha visto come è bellino questo qua? Sa... O ende! Erano, molto bella La bruschetta è elettorale Che è te? Che è te? Super no benvenuta Sissi dove si chiama Sissi? benvenuta dove vai? che c'è? come sei più piccola della mia polsa che c'è? che c'è? e piano piano di qua no perché ci sono le scale ti vuoi fare male vai di là vai che c'è? Sissi vieni vieni in giro piccola e vieni vai guardate come il peccolino e c'è? e vieni vai vieni 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 piccola vieni vieni dobbiamo mettere le ringhiere fuori il balcone adesso tu sei la nostra principista va bene ciao papino qua no eh qua no sul tappeto eh questo è donato a te questo tappeto le prime ore di Sissi a casa aspetta che c'è? ti piace? guarda come scotinzola vieni qua vieni qua ci hai fatto amicizie con la pecorella amore com'è bella questa pecorella è più grande di te la pecorella com'è bella questa pecorella eh già ti è passata tutta la paura tu sei terribile già ti è passata la paura mi piace questa casa adesso non sei pure una gabbietta c'è una casa tutta per te e guarda questa anche la bottoncina abbiamo comprato per te vieni qua sulla bottoncina qua vieni vieni qua dove stai? no le mie scappe no eh no 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 le mie scappe no eh vieni qua vieni qua ci siamo messe comode ci siamo pulite è vero? ci siamo pulite adesso siamo qua a casa è vero? vieni qua chi c'è? adesso stanno venendo anche i due fratellini Molly e Cookie subito vi dobbiamo far conoscere che siete tutti fratellini è vero amore? ma Cuccio sei piccola che piccolina tu piccola amore che sei bella metticela la tua bottoncina aspetta apriamo la porta ho paura ciao ciao Molly e ciao chi c'è? ciao Molly Molly sto qua io ho messo questa cosa avanti ciao 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 ehi sta qua ciao ehi terremoto è finito quello terremoto ciao amore ciao dove vai? ciao ehi dove sta? guarda chi c'è qua sta tremando piccola che c'è? non avere paura sono buoni che c'è Molly? vuole adorare la vista hai capito? Cucchi vieni a vedere anche tu vieni Cucchi guarda chi c'è Cucchi? qua sta guarda chi è lui? la vista la vista la vista che c'è? ti piace? fate bravi eh? eh? che c'è eh? Molly guarda chi c'è? lo vedi il cagnolino? no Molly qua guarda lo vedi? qua guarda eccolo qua vedi? visto? ti piace Molly? quello ti assomiglia ti piace Molly questo? non bastava quello anche un altro ma vera Molly non sei più la principessa tu chi sono questi amici? oh ma dora la pecorella che quello ci ha giocato vieni Molly guarda quella ti assomiglia è bianca e becci come te vieni a vedere e tu? sei bravi eh? ti piace? uuuuuh tu sei sempre la mia principessa Molly vieni vieni sei sempre l'amore mio amore mio per che c'è eh? hai visto Molly ti assomiglia a quel cagnolino lo vuoi per amichetto? ogni tanto te lo faccio vedere eh? la cagnolino ecco questa è la tua cagnolino guarda com'è piccola mi piace? non c'è niente dentro vuoi la pappa? guarda com'è piccola è più piccola della mia mano questa cagnolino eh? e che c'è ma non c'è niente là dentro che c'è ? che c'è da qui? che c'è da qui? che c'è da qui? attenzione mettiamo il collarino con tutti i strassi è largo ma ti ho detto più stretto che com'è meglio questo collarino più piccolino ce lo devi fare e che più piccolo non lo vedi come piccolino eccoci abbiamo messo Katarina di Sbaroschi un bellino una cosa da tattini una venti testina oh no mannacce e allora togli il tovagliolo il tovagliolo è più chic se l'è rossicato il tovagliolo vedi ti piace ci vogliamo da già i croccantini e cosa c'ha fame? bbb e la fecorella guarda come ti piace questa fecorella eh? ti piace? guardi sei un caniccio è becic sì sei un caniccio è becic tu sì ma c'è solo acqua è fame? ma ti chiamo una pappina chi c'è? chi c'è? come ti chiami tu? scegliamo un nome a questo cagnolino eccolo qua solo che stiamo indecisi sul nome come lo chiamiamo questo piccolo? non so come lo vorrei chiamare io lo vorrei chiamare Sissi perché dal primo momento che l'ho visto ho detto Sissi Sissi oppure Nancy lo vorrebbe chiamare Shabby perché è un cane Shabby chic e Max tu come lo vuoi chiamare? Luna Luna perché è bianco come la luna ragazzi consigliateci nei commenti un nome per questo piccolino un nome dolce un nome dolce Shabby per lui e che cosa vi ispira? amore vaniglia vaniglia pure buono vaniglia Sissi chiamalo ma sono due volte bellissime Sissi e guarda si pensa che c'è un altro cagnolino nello specchio chi è questo cagnolino? nooo la devi fare la pipì e la pupù ci dà fastidio il collarino e si deve abituare io abituo con questo collarino che carino la devi fare la pipì e la pupù ma dove andai vuole uscire? nooo perché vedi quel cagnolino da là dentro sei tu quel cagnolino chi è? bravo ha fatto tutta la cacchina qua sopra ma come sei bravo e l'hai fatta fuori però il premio il croccantino il premio mangia che cosa è questo? mangi il croccantino se l'ha mangiato? mmmm è piccolo mangialo bravo non se l'ha mangiato aspetta piano piano io anderei ecco lì che c'è? guarda come è piccolo è piccolo è piccolo che c'è? ecco eccolo qua piccolo come è piccolo abbraccio a te che c'è? sono piccolina sei picca? si ho fame se hai fame? ora ti diamo il croccantino che c'è? che vecchio è tutto vecchio 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 ecco 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 la papina la nostra principessa è vero? e la papà noi abbiamo comprato tanto sushi è vero? com'è bello questo sushi bellissimo tanto sushi siamo tanti affamati no tanto affamati che stai? solo per il papà solo per il papà mamma non ti vorrei mamma dove scappi? dove l'ha fatto questa pecorella? è bello è una pregarella è pieno è pieno che scappi chi 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 Allora, vieni! Acippo fa gusti! Perché è davanti pe qui? Vieni, 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 vieni! Vieni, 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 vieni! Non è troppo calore! Piscì! Chi c'è? Non vuole mangiare questa bimba? Vai a mangiare! Beve solo, beve un sacco di acqua! Ma non vuole mangiare? Ho fatto i tortini al cioccolato, però questi qua dal cuore caldo! Sono monti buonissimi! Eccoli qua! Sono buoni, eh? Dobbiamo fare il video! Come sono, Nancy? Buoni, eh? Metteteci un pollice in su se volete il video dei tortini! E metteteci un pollice in su per questo cagnolino bellino! Quello è bello! Bello! Vi mandiamo un bacio grande! Ciao! Ciao! Ciao da tutti! Quando è buono! Ciao! 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 Ciao!